Voi avete un teatro in Sicilia, figuratevi che concezione c'è ancora oggi della nostra terra e voglio concludere con un pensiero che di tanti hanno inserito in questo lavoro di Edmondo Di Amicis, che come dico io, anche se non faceva il cardiologo di cuore sicuramente se ne intendeva che nel suo libro Ricordi di un viaggio in Sicilia ha scritto O divina Sicilia, quanti italiani che hanno corso il mondo per diletto morirono o moriranno senza averti veduta Viva la Sicilia è siciliana Grazie a tutti per far conoscere questo intervento Ciao Io ringrazio tutti per aver partecipato e per aver reso possibile questa serata Se il nostro modo di fare banca vi è piaciuto, ditelo ai vostri amici Se non vi è piaciuto, ditelo a loro stesso Ma in realtà è che soffrono anche loro Signori, c'è un profeta di corsi che si aspetta all'esterno Grazie a tutti